Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi della nostra personale opinione su Little Hop, ultimo gioco creato dai creatori di Until Dawn. Piccola premessa in anticipo... Partorido! Piccola premessa, il gioco che ci è piaciuto più di Man on Merdan, però non è a livello di Until Dawn. No. Se vi interessa solo questo, ora potete uscire. Se no, buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui per darvi la nostra opinione su Little Hop, secondo gioco dell'antologia horror, seguito di Man on Merdan dai creatori di Until Dawn. Partiamo col dire subito due cose. Abbiamo aspettato a fare questa recensione perché volevamo completare il titolo al 100%, scoprendo ogni segreto e possibile finale. Il gioco è un ottimo titolo, superiore sotto ogni aspetto a Man on Merdan, ma ancora privo di qualcosa che non gli permette di raggiungere Until Dawn. Partiamo comunque dalla trama. Il gioco inizia con un autista di un pullman che a causa di un problema sulla strada è costretto a deviare per la cittadina di Little Hop. Poco dopo il già menzionato pullman si ribalta e la storia fa un salto temporale all'indietro, portandoci negli anni 70-80. Qui facciamo la conoscenza di una famiglia composta da padre, madre e quattro figli. Fin da subito è chiaro che la suddetta famiglia non è affatto una famiglia modello, anzi è tutt'altro. La cosa che salta subito all'occhio infatti è che tutti non sopportano Megan, la figlia più piccola. Tutti tranne Anthony che invece prova a difenderla. Dopo questo breve prologo un incendio divamperà in cucina causando la morte accidentale di tutta la famiglia ad eccezione di Anthony. Nella scena successiva torneremo nel presente dove finalmente faremo la conoscenza dei nostri cinque protagonisti, Andrew, Taylor e Daniel, tre studenti universitari. Più Angela, studentessa universitaria molto indietro con i corsi. Infine John, il professore. La prima cosa che salta all'occhio è l'incredibile somiglianza dei cinque protagonisti con i cinque membri della famiglia vista in precedenza, bambina esclusa. Il gioco dunque inizia così, con i protagonisti costretti ad avanzare verso Little Hop in cerca di soccorso. Passiamo adesso al gameplay, esattamente come Until Dawn e Man on Medan, Little Hop presenta lo stesso identico stile, visuale in terza persona, un minimo di esplorazione, utile per raccogliere vari collezionabili, dialoghi a scelta multipla, come per il suo predecessore ci saranno scelte di testa e di cuore, e tantissimi quick time events, utili per superare ostacoli e boss fight. La cosa che ci ha colpito di più rispetto a Man on Medan, a parte l'ambientazione decisamente più spaventosa, è l'effettiva possibilità di far morire i personaggi in diversi modi, scegliendo male o sbagliando in qualche quick time cosa presente veramente in minima parte in Man on Medan. Altro aspetto positivo è la varietà del gioco, con le scelte che farete infatti ci saranno scene giocabili con un personaggio invece che con un altro. Inoltre, nelle nostre 4-5 run non ci siamo mai veramente annoiati. Per quanto riguarda l'atmosfera horror, quest'ultima non riuscirà mai a mettere veramente paura, soprattutto perché gli sviluppatori hanno abusato un po' troppo dell'effetto jumpscare, rendendolo abbastanza prevedibile. Graficamente, il titolo è praticamente lo stesso del suo predecessore. Solo l'espressività dei personaggi è leggermente migliorata, anche se non tutti sono stati effettivamente in grado di trasmettere delle vere emozioni. Soprattutto il professore, che senza alcun motivo continua a ghignare in quasi tutte le scene. Le ambientazioni sono realizzate molto bene e anche gli effetti di luce e ombra rendono tantissimo, a differenza del fuoco che è veramente penoso. Infine la nebbia, molto ben fatta e stile Silent Hills, anche se a volte risulta veramente troppo eccessiva. Va bene rendere ciechi i personaggi a causa della nebbia, ma sordi no. Spesso, infatti, capiterà di vedere uno o due personaggi risperdersi tra la foschia, tra urla, eccetera, senza provocare la minima reazione dei compagni vicini. Le musiche e gli effetti sonori sono davvero ben realizzati, soprattutto i vari rumori emessi dai demoni, bocciato assolutamente il doppiaggio italiano. Nonostante il team composto da doppiatori d'eccellenza, le voci non sono per nulla azzeccate con le scene in game. Parte da un professore che urla per lo sforzo dopo aver spinto un mobiletto invece che durante, fino a uno dei ragazzi che bisbiglia da lontano per poi urlarti in faccia da vicino, senza contare alcuni bug presenti al day one che stoppano all'improvviso il dialogo in questo modo, mentre si pronuncia una fra... Oltre al fatto che in alcune scene i personaggi inizieranno a parlare in inglese, nonostante l'impostazione sul doppiaggio italiano. Insomma, le voci non strane sfigurano se le si mette a confronto con quelle originali. Per quanto riguarda la longevità, sarà possibile completare la storia in circa 4-4 ore e mezza se esplorate un po', in alternativa anche 3 ore. Il gioco però ha una buona rigiocabilità, soprattutto se punterà al 100%, prendendo anche tutti i collezionanti. Noi abbiamo fatto circa 4-5 run, fino ad ottenere il tanto agognato platino, e non ci siamo mai veramente annoiati. Cosa che non possiamo dire di Man on Medan, dove abbiamo interrotto la seconda run poco dopo l'inizio, proprio a causa della noia. Concludendo, il gioco per noi è promosso a pieni voti. Certo, ci sono tante e tantissime cose da migliorare, ma dopo la mezza delusione di Man on Medan, siamo contenti di come è stato realizzato Little Lob, e speriamo che il seguito, il trailer disponibile sul nostro canale, si mantenga sullo stesso livello. Prima di chiudere, tuttavia, vogliamo dedicare qualche minuto a chi come noi ha già giocato questo titolo, e che quindi può avanzare nell'area spoiler free. In alternativa, chiudete adesso il video, perché da adesso parleremo chiaramente con tanti spoiler. La storia si svolge su due linee temporali. La fine del 1600, durante i processi alle streghe, ed i giorni nostri. Vi diciamo questo per parlarvi di alcune cose incoerenti, o meglio, insensate, presenti nel gioco. Per tutto il tempo, il gioco ci farà avere delle visioni ambientate proprio alla fine del 1600. Andando avanti, si scoprirà che il nostro Andrew non è altro che l'autista, ovvero Anthony, cresciuto dopo gli avvenimenti della casa in fiamme, vista all'inizio. Però, anche prendendo tutti i collezionabili, guardando gli speciali e leggendo il fumetto di Little Hop, non si spiega bene il collegamento tra i tre archi temporali, ossia 1600-1970, giorni nostri. L'unica spiegazione che ci viene in mente è che i cinque personaggi sono maledetti fin dal 1682. Come illustrato dal prete, questa maledizione si ripresenta ogni tot tempo. Tuttavia, non è chiaro che sia la figura demoniaca visibile di fianco a Megan prima dell'incendio, o del perché Mary, la bambina del passato, si mostri con atteggiamenti veramente maligni, pur essendo una vera santa. Avremmo preferito molto di più un colpo di scena con la bambina effettivamente cattiva. Inoltre, etichettabile come buco di trama, Anthony, l'autista, durante la gita a Little Hop, gira sempre da solo, immaginando di essere in compagnia dei suoi amici, rendendo però inspiegabile le scene di Daniel e Taylor, dove Andrew non è mai presente. Possiamo giustificare il tutto come scelte dovute al gameplay, ma in modo molto molto forzato. Senza contare i demoni, chiarito che ogni demone attacca solo la propria versione umana, allora perché di tanto in tanto possiamo vedere il demone e il professore, per esempio seguire Daniel? E tra le altre cose senza senso, abbiamo anche la disperata ricerca dei protagonisti di un telefono funzionante, sia in un supermercato che nella stazione di polizia. Ma se non è presente alcuni piante elettriche ancora in uso, questi ben retti telefoni come potrebbero ricevere o fare una chiamata? Cavo o non cavo, senza corrente la linea non va. Per concludere, un'altra cosa insensata realizzabile sul finale, più precisamente nel momento in cui Anthony ricorda di aver detto al poliziotto di aver fretta perché deve portarli a casa, il poliziotto, dopo aver constatato che sul pulma non è effettivamente presente nessuno, lasciandà l'autista come se nulla fosse. Quando normalmente avrebbe dovuto sospettare qualche problema mentale dell'uomo, o perlomeno una scarsa lucidità dovuta magari all'alcol e non lasciare andare un uomo che delira alla guida di un pullman. Comunque, sorvolando su queste cose senza senso che ci hanno disturbato un po', possiamo confermare che il titolo ci è veramente piaciuto e non vediamo allora di scoprire la prossima storia dell'antologia horror. Bene, la nostra recensione finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti qui sotto. Vi invitiamo come sempre a lasciare un like, a condividere e a iscrivervi. Ciao a tutti! Ciao a tutti!